Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, il mio nome è Crash e oggi siamo di nuovo su Borderlands 2 Quindi iniziamo subitissimo a giocare Ok ragazzi eccoci qua, eravamo rimasti che avevamo battuto Boom Boom e suo fratello Buv mi sembra Che si chiamavano così E dovevamo andare a parlare con Claptrap Tipo ora Ciao Claptrap Ma subito, con piacere proprio Ok Scusa Non ho preso nessuno, che faglia Fuoco, fuoco, brucia Olè 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 Sì, sono ancora No no, ok Apriti sedano Tu prego Deadrap Oh grazie Piano piano Deadrap, con calma C'è qualcosa qua? Boom, bitch Ahia Ma muori Ah 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 Fuoco, brucia, brucia Ah ah Non c'è Deadrap, non posso rischiare Eeeh Ecco Eeeh Vabbè sei morto Grazie Aiuto Fuoco Fuoco di artificio Fuoco di artificio Una salve Una salve Aio Non fa uno schifo Quest'arma Io che stupido che l'ho presa Fuoco di artificio Fuoco di artificio Fuoco di artificio Che cosa c'è qua dentro Che cosa c'è qua dentro? Mi fanno un po' schifo gli esplosivi Veramente Però per ora devo approfittarle Deadrap Facci te lì che non ci arrivo Grazie Deadrap Grazie Deadrap Aio E mo? Siamo tornati Beh Dura Sai sono una mecramante Però va bene E' vero Quando mai Vai in brucia Vai in deadrap Ma c'è qualcosa? Un'arma? Che schifo Al venti Ah Eh So Aio Ma brucia male Teh Troviamo Una gru Per Claptrap Che non sa salire Delle scale Ma va bene Ma va bene Adesso con una magia Mi farò morire tutti Uno Due Tre Olè Visto? Facile facile Ora vi faccio vedere Una cosa nascosta Fazzoletti Poster Tanti Poster Perfetto Perfetto A posto Fuoco e fiamme Capitan Flint Brucia baby Brucia Bel motivetto Però Devo ammetterlo Attacco Fortuna Tipo Che non ho solo armi da fuoco Perché sennò Ero finito Contro Flint Fermesso Muori E' sceso Attac 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 Ecco lo so Non vediamo niente Devo trovare la soglia critica E' preso fuoco Esisti Deathrap Stai fermo lì La soglia critica L'ho trovata Muori Muori Oh cacchio Dai Aio GG Oh un'arma blu Oh Ma muori Cioè era la stessa potenza di quella Solo aveva qualche statistica in più Perché è blu Oh oh Ok ragazzi Sono un attimo tornato indietro Infatti vi taglierò tutto Perché Mezz'ora di video Lo farei solo per stare indietro Usiamo Deathrap Per uccidere le persone Perché tanto non mi interessa Perché Perché qui Ci sta un segno della cripta Nascosto E mi ero dimenticato Totalmente di lui Mentre me ne stavo andando Ci ho praticamente pensato E lo sto andando adesso a prendere Perché Voglio prenderli tutte e tre Eh Per lasciarmi in pace Tanto non mi fai niente Eccolo qua Io già L'ho appena scoperto Così da completare la sfida Quindi Perfetto Ci rivediamo alla nave Ok ragazzi Dopo tipo 15 minuti di strada Siamo tornati Alleluia Oh Dai Fatti concedere A sta missione Oh Mamma mia In che mala posizione Mai Collega l'abattatore Al caceraio Ti farò Overe Un'autobattis Oh Wow Però aspettate Non mi piacciono le mimetizzazioni default Mettiamo Questa Che bello Si salta Ole Vabbè ci vediamo a seguito di ragazzi Ehi E che adoro il bloodshot Merda E salve Vai verso di loro Bravo Bravo Mi sto divertendo Si signor Roland Signore Grazie Ehi 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 Eccoci Comunque se ve lo state chiedendo Perché adesso sono a piedi Perché mentre venivo qua Mi sono farmato un paio di bully mong Perché con la macchina Quando uccidete bully mong con l'automobile L'esperienza diminuisce Perché giustamente È molto più facile ucciderli rispetto È livell up infatti Rispetto a chi ha piedi Olè Bene così Eccolo là Mamma mia ma calmate Beh io so come un po' di ex Mi ha buttato infatti Ok l'abbiamo salvato Adesso Ragazzi io mi fermerei qui Perché è già un bel po' di tempo che registro E non so quanto ancora posso registrare Quindi per evitare che poi devo fare Troppi tagli Mi fermerò qua Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre vi chiedo Di lasciare un mi piace Di commentare E di condividere il mio video Per crescere insieme E ci si vede A un prossimo video Ciao Alla belli Grazie a tutti Grazie a tutti